Ho trovato lavoro. Ah, bravo Gian Umberto. Vado con i muratori. Non essere sciocco, bambino mio, andiamo. Ma non mi rompere i coglioni. Uno che sta che sia da fare c'è sempre quello che deve rompere i coglioni. Noi non sappiamo cosa c'entri tutto questo col bagno di Paolo, ma sappiamo che questo dispositivo ha già distrutto intere famiglie.